Fa piacere vedere tanta gente, Presidente, come sempre segno di buon lavoro che voi oramai portate avanti da tanto tempo, una tradizione che è quella della Yo-Yo di Corato che vi posso assicurare, oggi pomeriggio ero in altra città ma sanno bene di questa nostra usanza. La città di Matera è divenuta capitale europea della cultura nel 2019 e quindi abbiamo pensato di rendere omaggio a questa città straordinaria, piena di tradizioni che conserva un centro storico meraviglioso, abbiamo pensato di rendere omaggio così invitando un gruppo concoristico di quella città. Grazie a tutti! Grazie a tutti! In fondo, se la vede a Romagna, ci date un po'. Grazie per la visione!